www.ccellerinovigno.it e decidere chi sono gli innocenti e i colpevoli dovrebbe almeno chiedersi come funziona il lavoro della Celeri. Mamma, ti potevi far segnare un altro reparto? Mamma, è quello che paga meglio. Non sei più un quattro di strada, lo capisci o no? Sei un Celerino, porti una divisa. Hai rotto il cazzo, hai capito? Vattene a fanculo! Ho fatto una cazzata. Si stanno organizzando. Si sono dati appuntamente allo stadio. Vogliono fare il morto. Eccoli, eccoli, eccoli. Ma lei pensa che spaccare la faccia alla gente sia una cosa che mi piace? Che mi diverto a farlo? Ma in quei momenti c'hai il cuore che te batte forte. L'adrenalina che sale a mille, la testa che te rimbomba, che sembra che debba scoppiare dentro il casco. Non senti niente. Capri, capri, capri! C'hai solo i tuoi fratelli. Accanto. Solo su quei fratelli puoi contare.